Che cosa diranno di me tutte le ragazze del lampione? Mamma, mamma dove sei? Mi si stanno aprendo dei buchi qui sotto la fronte. Ci vedo, ci vedo, vedo dei culi, quanti culi! Ma sono quelli dei tuoi fratellini e delle tue sorelline. Beh, allora diciamo che come faccia sono il più carino, ecco. Guarda, com'è potuto succedere? Com'è potuto succedere? E allora scusa, per chi volano le cicogne? Mica soltanto per noi? E quelli ricchi sono? Sono i miei padroni. A che cosa servono? A sfamarci e a portarci a spasso. Sono dei grandi cani a due zampe. Io non voglio padroni, non voglio. Li vorrai, li vorrai. Non riprenderò mai più la mia linea. Da oggi solo riso soffiato.